Ciao Lucia, oggi senza bisogno di presentazioni come faccio di solito insomma personalmente dove vi parlo e inquadro il capo che ho realizzato, quindi vado a fare una presentazione un po' diversa, è piccolino, è il progetto di oggi e quindi non avevo necessità di indossarlo e farvi una presentazione diversa. Eccolo qua e questo è il mio scaldacollo infinity, guardate qua che bello, tutto fatto appunto nocciolina, è morbidissimo, veramente soffice, veramente molto caldo. Allora questo qua, devo dire la verità, copre praticamente, è piccolino, copre il collo e basta, cioè non ho fatto il solito scaldacollo che scende più ampio, questa volta ho fatto qualcosa di piccolino da mettere dentro le giacche accollate, però che tenesse veramente molto caldo e quindi questo, devo dire, questo punto nocciolina, oltre ad essere molto morbido, scalda anche tantissimo. Ho fatto anche, perché ne ho fatti due progettini, ma si fanno nello stesso modo, quindi non dovrò farvi vedere due lavori, è fatto nel medesimo modo, ma vi faccio vedere anche cosa potete farci. Ecco qua, potete fare anche una fascia per capelli, sempre modello infinity. fascia di capelli vi consiglio di fare il giro di mezza maglia alta, perché essendo più piccolo ed essendo molto spesso il punto nocciolina, ho notato che faceva fatica a girarsi, perché rimaneva molto spesso invece così, essendo la strisciolina centrale fatta a mezza maglia alta, vedete sono praticamente sopra e sotto, sono due righe, poi alla fine di mezza maglia alta incrociava meglio, cioè torceva meglio, quindi avete due, un unico progetto, due diversi tipi di realizzazione, in realtà tre, perché se volete fare invece più ampio questo scaldacollo e cingere quindi le spalle, avete non uno scaldacollo, ma uno scialle, quindi potete decidere voi un po' come realizzarlo, diciamo basta solo cambiare l'inizio, quindi la dimensione, io questo l'ho iniziato con un'ottantina, novantina di catenelle, ne sto facendo un altro leggermente più ampio, io vi consiglio di iniziare con 110-120 catenelle, perché questo è veramente molto stretto, cioè proprio questo sta giro collo e basta, se invece lo volete un po' più morbido o magari volete anche poterlo alzare come cappuccio, quindi farlo più alto e alzarlo come cappuccio, vi consiglio di iniziare con, io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 5 e un filato comunque da lavorare col 4, 4 e mezzo, in modo che non venga troppo, diciamo, stretta la nocciolina, quindi rimanga un po' ariosa la nocciolina, quindi con un uncinetto del 5 e un filato un po' più sottile di quello adatto all'uncinetto del 5, vi consiglio, se volete farlo appunto un po' più ampio di partire con 110-120 catenelle, ovviamente poi dovete fare il campione per vedere come, a seconda del vostro filato ed uncinetto, insomma con quante catenelle partire, io vi dico più o meno col filato che ho usato io, appunto con quante più o meno dovete partire. Vi dico anche che consuma abbastanza questo punto, quindi per esempio questo scaldacollo proprio piccolo, soltanto l'altezza del collo e gira proprio giusto, per questo ho usato 150 grammi di filato, questo è un misto lana 50-50, quindi 50 acrilico e 50 lana e effettivamente consuma tantissimo questo punto, perché insomma tutti i punti puff di solito consumano un po' di più. Direi che mi sono dilungata abbastanza nella presentazione e vi faccio quindi vedere come iniziare, come procedere con questo bellissimo progettino. Allora come al solito facciamo un campioncino, così mi resta anche più semplice spiegarvelo in tutte le sue parti. Allora andiamo a fare un campione e io in questo caso vado a mettere 1, 2, 3, facciamo 10, 10, 20, facciamo 30, 30 quindi catenelle per il mio campione. Allora tenete ben dritta la catenella e la chiudete a cerchio, in questo modo, così, chiudete con una maglia bassissima, allora aspettate, esco prima da una e poi dall'altro, ecco qua, tiro un attimino che stringo la prima, ecco qua, e ora, benissimo. Allora, procediamo in questo modo, partiamo con 3 catenelle, così, carichiamo il filo ed entriamo nella seconda catenella che troviamo dopo la maglia alta iniziale sostituita dalle 3 catenelle, quindi in questa seconda catenella entriamo, catturiamo il filo, alziamo bene all'altezza delle 3 catenelle, ricarichiamo il filo, rientriamo nella medesima catenella, ricatturiamo il filo, usciamo tirando bene di nuovo, ricarichiamo, entriamo per la terza volta, catturiamo il filo, usciamo, tiriamo bene, carichiamo ed usciamo da tutto ciò che abbiamo sull'uncinetto, chiudiamo con una catenella, carichiamo il filo, saltiamo la catenella a fianco, in quella successiva, rientriamo, alziamo bene, carichiamo il filo, quindi lo facciamo per 3 volte, 1, 2 e 3, vedete in questo caso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fili sull'uncinetto, carichiamo per l'ultima volta, usciamo da tutti, chiudiamo con una catenella, abbiamo fatto un'altra nocciolina, di nuovo carichiamo, saltiamo la catenella successiva, andiamo in quella dopo, quindi lavoreremo una catenella sì e una catenella no, ecco qua, usciamo, alziamo bene, una volta, alziamo bene, siamo usciti due volte, rientriamo per la terza volta, alziamo bene, ed usciamo da tutti e 3, da tutti e 3, da tutti e 3 i punti, che da tutti e 3 le successioni, in realtà usciamo da 7 cappietti, ricarichiamo, sempre saltiamo 1, in quello successivo, entriamo, carichiamo, alziamo bene, ricarichiamo, 2, 3, chiudiamo tutto e serriamo con una catenella, vedete che sta iniziando a farsi il nostro punto, aspettate, vediamo se riesco ad alzare la luminosità, ecco perché questo filato è un pelino scuro, non vorrei che non si vedesse, quindi vi faccio rivedere, saltiamo 1 catenella, entriamo in quella successiva, guardate bene in quale catenella entrate perché facendo un punto così molto spesso andiamo ad allargare molto la catenella nella quale lavoriamo e quella a fianco quasi va a sparire, quindi controllate bene di entrare nella catenella giusta, altrimenti poi vi ritrovate che avete delle noccioline, quindi questi punti puff, queste noccioline che sono una più vicina, una più lontana, per avere insomma una regolarità nel lavoro sarebbe meglio che entrasse nella catenella giusta, al fine del risultato del punto non succede nulla, è solo per non averne una più vicina, una più lontana, insomma diventa più bello l'effetto, quindi per la terza volta entro, carico, alzo bene, tiro e chiudo, ecco qua, vabbè li facciamo tutti insieme, tanto ho fatto una catenella molto piccola, quindi ecco qua, 2, 3, vedete come vado spedita dopo un po' perché quando si capisce poi il punto non è più necessario diciamo, insomma andare piano piano, è solo giusto il primo momento dove si capisce bene che cosa bisogna fare, ma poi vedete che è una cosa molto molto rapida da fare, poi se tendete bene le maglie non avrete neanche difficoltà ad uscire perché comunque è aperto bene il punto e quindi vedete non ho difficoltà ad uscire e esco tranquillamente e quindi faccio tutte le mie noccioline, adesso l'ho detto e ho tirato dentro un filo, tanto per cambiare, succede sempre così, quando si dice una cosa poi tiri il filo e ti blocchi, allora 2, 3, catenella di chiusura, salto 1, 1, 2, 3, chiudiamo, catenella di chiusura, ormai siamo arrivati, allora 1, non mi è scivolato, 2, 3, chiusura, quindi è come fare una maglia alta però entriamo tre volte senza mai chiuderla, in questo modo, quindi chiudiamo, saltiamo sempre la la nostra maglia, la nostra catenella, 2, 3, chiudiamo, 1, 2, 3, chiudiamo, siamo arrivati perché saltiamo una e siamo qua, allora 1, 2, 3, chiudiamo, andiamo a farne una molto ravvicinata qui, quindi dove abbiamo iniziato, dove abbiamo la prima, vedete la prima maglia alta, ne facciamo una molto ravvicinata, quindi qui proprio a fianco alla maglia alta, lo faccio per non avere l'antiestetico buchino che si crea quando giriamo l'infinity, è come se facessimo un piccolo aumento, è proprio per non avere quell'antiestetico buchino, adesso vedete, se voi volete procedere senza l'incrocio, vedete, tranquillamente chiudereste con la maglia bassissima e procedereste andando a lavorare sopra, invece noi vogliamo che giri perché questo è un infinity e allora andiamo a fare in questo modo, abbiamo il lavoro così e dritto, lo giriamo in questo modo, quindi andiamo sotto, carichiamo, entriamo direttamente negli spazi tra una nocciolina e l'altra con un'altra nocciolina, in questo modo, guardate, allora il primo entro tra la maglia alta e la nocciolina, la maglia alta che io ho appena girato verso il basso, allora era girata così, io l'ho girata verso il basso, entro proprio tra questa maglia alta e la nocciolina e quindi carico e vado a fare un'altra nocciolina, quindi 1, 2 e 3, chiudo, catenella. La seconda la vado a fare tra le due noccioline successive, quindi 1, 2 e 3, in questo modo. continuo così, sempre in questo modo, vedete, 1, 2, 3, chiudo, di nuovo, 1, 2, 3, in questo modo noi non avremo neanche questa riga qui, che è quella iniziale, praticamente il nostro lavoro sarà realmente un infinity, non avrà né inizio né fine né capo né coda, quindi vedete, quando io poi vado avanti, procedo, vedete, non si capisce qual è l'inizio del lavoro, perché è tutto uguale, non si vede l'inizio del lavoro, è tutto lavorato nello stesso modo, vedete, non abbiamo strisce iniziali e per questo ho deciso di non fare la, scusate, la prima striscietta a mezza maglia alta o a maglia alta, proprio per non avere, diciamo, l'antiestetica riga che poi ci fa vedere qual è l'inizio del lavoro, invece così noi abbiamo semplicemente il lavoro tutto uguale, senza nessunissimo, senza nessunissima differenza, quindi chi lo vede pensa proprio che sia, diciamo, non capisce da dove si parte, quindi comunque abbiamo un lavoro più preciso, più bello da vedere, senza giunture di nessun tipo, nonostante comunque nell'infinity le giunture non ci siano, perché ovviamente l'infinity è lavorato tutto insieme, però diciamo che togliendo anche il giro iniziale, quindi la riga iniziale, il lavoro è più compatto, più bello e insomma esteticamente tutta un'altra cosa. Ora io sto andando un po' veloce, perché, ecco qua, mi sono persa, devo rifare questo punto, perché voglio appunto farvi vedere poi come procediamo quando ritorniamo all'inizio del lavoro e visto che è piccolino non volevo fare chissà quante interruzioni, perché tanto è abbastanza semplice. Adesso chi ha lavorato l'infinity lo sa che va avanti a girare, quindi adesso stiamo girando sotto, vedete, qua c'è la torsione, adesso vi faccio vedere, vedete, siamo tornati qui, siamo tornati qui, ma ci siamo tornati in questo modo, adesso ve lo faccio vedere, perché girando la prima volta, vedete, io adesso giro in modo che ce l'ho dritto il lavoro davanti a me, non dovrò più girarlo in nessun modo, perché gira da solo, quindi la torsione va fatta una sola volta all'inizio. Adesso noi abbiamo lavorato sotto, vedete che cosa ho qua io? La mia maglia alta che avevo girato sotto, però vedete che adesso invece è sopra, perché il lavoro ha girato, e allora in questo caso noi facciamo così, carichiamo e continuiamo normalmente a lavorare le nostre noccioline, quindi dentro nella maglia alta, tra le noccioline successive, in questo modo, basta, da questo momento in poi noi andremo avanti a girare all'infinito, vedete che si torce il lavoro, naturalmente, ma noi non dobbiamo più girarlo, lo fa lui, gira lui da solo. Quindi, procedete con, io qua vi dico, per fare questa ho fatto una, penso siano una trentina di giri, aspettate, due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici, ciotto, venti, sì, sono una trentina di giri per fare questa, bianca, questa qui ha due giri di mezza maglia alta, dopodiché ha ovviamente quattro giri sopra e quattro giri sotto, quindi sono comunque quattro giri completi, perché poi adesso voi non avrete più sopra e sotto, il giro si conclude quando arrivate qua, però, proprio girando così, sotto, e poi risalite sopra, sotto, è proprio come il segno dell'infinito, il segno dell'infinito fa questa forma, e ovviamente anche il vostro scaldacollo avrà questa forma. Ora vi faccio vedere, su questa rossa, visto che non l'ho ancora finita, come rifinire con il punto archetti obliqui. Allora, per farvelo vedere meglio, lo andrò a fare con il filo bianco. Allora, tenete il vostro lavoro sul dritto, quindi da fuori e non da dentro, altrimenti poi vi risulteranno a rovescio gli archetti. Facciamo il nostro cappietto. Quindi questo è il dritto del lavoro. Noi lavoriamo all'esterno, quindi in questo modo. Mi attacco in un punto qualsiasi, tanto non c'è assolutamente differenza. Quindi entro con una maglia bassissima, faccio una, due, tre, quattro catenelle. Aspettate che avvicino così ve lo faccio vedere meglio. In questo modo. Quindi fatte le quattro catenelle, carico, e nello stesso punto, quindi io sono entrata, lavoriamo sempre tra le due noccioline. Allora, entro e faccio maglia alta. Una seconda volta sempre tra le due noccioline, di nuovo maglia alta. E una terza volta maglia alta. Saltiamo uno spazio tra due noccioline, entriamo nel prossimo spazio con una maglia bassa. Vedete? Vi faccio vedere di nuovo. Allora, tre catenelle, quindi maglia bassa, tre catenelle, tre maglie alte. Una, due, e tre. Di nuovo saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo con una maglia bassa, tre catenelle, e di nuovo, sempre nello stesso spazio, tre maglie alte. Quindi tutte nello stesso spazio. Così. Di nuovo saltiamo uno spazio, in quello successivo entriamo con una maglia bassa, tre catenelle, e sempre nello stesso spazio, tre maglie alte. Una, due, e tre. Vedete? Abbiamo i nostri archetti in diagonale. Ora, io vado a farli tutti, così vi faccio vedere come chiudo alla fine, e ci rivediamo per i saluti. Eccoci alla fine, come vedete, sono arrivata in fondo, qui ho il mio primo ventaglietto, entro proprio sotto al primo ventaglietto, e chiudo con una maglia bassissima. Ora farò una catenella di sicurezza, taglio il nostro filo, ho lasciato la forbice altrove, e quindi, vedete, abbiamo fatto la rifinitura, aspettate che allontano, della nostra fascetta, per capelli. Questa ovviamente è una fascetta che io ho fatto, come, fascetta paraorecchie, diciamo, quindi le fascette invernali da mettere per uscire, non quelle, cerchietto, può essere fatta anche per bambini, guardate che carina, fatta così rossa e bianca, per una bimba, è veramente una cosa carina, poi nasconderete i fili, ma guardate, con tutte queste noccioline, penso che non ci sia proprio il problema, di dove nascondere i fili, vedete, proprio anche per una bimba, questa bella fascettina, direi che è veramente graziosa, bianca e rossa. Quindi direi che, sono arrivata in fondo, a questo tutorial, che è semplicissimo, intanto nascondo i fili, proprio nel vero senso della parola, sotto qui, vi faccio rivedere appunto i due progetti, che sono veramente molto belli, quindi vi ribadisco il fatto di montare molte catenelle, perché noi una la salteremo, è vero che non si restringe di tanto, perché comunque non diventa alla metà il lavoro, però si stringe parecchio, quindi calcolate che se una catenella normale, per far passare la testa, è fatta di 90 catenelle, voi calcolatene almeno 40 in più, anche 50 in più, perché? Perché comunque, se non lo volete proprio che vi strozza, questo qua è proprio giusto giusto, se non lo volete proprio che vi strozza, e se lo volete magari un po' più morbidino, o da portare poi, quindi fatto più spesso, più alto, inteso più spesso come altezza, quindi questo qua, adesso vi dico già che è alto tipo un 20 centimetri, cioè proprio basso, copre solo il collo, ma se voi volete farlo più alto, perché lo volete portare, quindi un po' più sceso davanti, calcolate almeno 150-160 catenelle, perché se no, poi dipende dal filato, e per carità, io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 5, però voi calcolate che, deve essere più abbondantino, perché poi noi andremo a lavorare, una catenella sì, e una la salteremo, quindi avremo questa alternanza, di catenelle lavorate e non, e quindi, dobbiamo calcolare insomma, una catenella un po' più ampia, di quello che sarebbe normalmente, per uno scaldacollo preciso, basta, io direi che, è già durato abbastanza questo tutorial, che in realtà doveva essere brevissimo, ma mi sono dilungata, vi spero vi sia piaciuto questo progetto, vi invito a venirmi a trovare, sul mio gruppo Facebook, Creando con Luce Franci, vi mando un grossissimo bacio, al prossimo tutorial, ciao ciao da Lucia!